Saranno ristrutturati sei mobili del centro storico di Patti per essere poi affittati e dal comune a cittadini che ne faranno richiesta. Con i proprietari l'amministrazione ha già firmato un protocollo d'intesa per la cessione a titolo oneroso. Il progetto è stato realizzato dall'ingegnere Franco Spanò. Alcuni giorni fa è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori per quello che viene chiamato programma di riqualificazione urbana per allogge a canone sostenibile con interventi di recupero del patrimonio edilizio nel centro storico per l'importo di circa 4 milioni di euro. L'intervento è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2010 ed è stata prevista una compartecipazione a carico del comune per oltre 600 mila euro. Il progetto è stato avviato nel 2009 ma si trattava di un intervento diverso. Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile per la realizzazione di 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica e località Patti Centro via San Nicolò la Mendola. Dunque con questi lavori sarebbero stati realizzati alloggi popolari al dirà del torrente Providenza all'Atomonte. Nel 2019 è stato invece approvato in linea amministrativa il progetto definitivo ma si è deciso di modificare l'oggetto recuperando sei mobili per realizzare alloggi a canone sostenibile e riqualificazione di aree pubbliche da qui l'intervento per il quale adesso è stato bandito l'appalto.